le tappe le trovi sul blog www.beppegrillo.it slash la cosa e c'è il calendario comunque sono sette tappe in Sicilia Messina, Ragusa, Catania oggi tra domani e dopodomani Palermo, Caltanissetta Trapani e Muscudai benissimo allora io non ho ancora visto piazza che è una zona piene abbiamo fatto 20 non mi ricordo quante 28, 29 tappe finora tutte piazze piene sempre e adesso andrà sempre di più e ora lo tsunami cresce grazie andiamo sul ponte foto non era meglio a nuoto se non si pagava te lo spiego io SSLVT praticamente il video del comizio di Beppe a Siena è stato contestato da parte di RT dicendo che i diritti sono di loro proprietà io ho fatto ovviamente una contestazione alla contestazione dicendo che il video appartiene a me perché l'ho girato io e le immagini ritratte sono immagini di un comizio pubblico fatti in una piazza e adesso stiamo aspettando che che rispondano è da un giorno e mezzo che non guardo quindi non so se la questione è stata risolta guarderò stasera non appena avrò il tempo per chi chiede dove ci troviamo siamo sul traghetto e ormai credo che manchi poco all'attracco a Messina siamo partiti da Villa San Giovanni alle 10.40 e fra pochi minuti arriveremo a Messina sì, siamo sullo stretto questa volta questa volta non la fa a nuoto come sta andando lo tsunami tour fino a questo ah la grandissima il verificatore umano il dirigente il conto ah da parte no no ma direi che è proprio si sta trasformando il movimento in una comunità guarda è comunità ci diamo una mano uno colare quello che dovrebbe diventare l'Italia se andiamo su noi una comunità ci aiutiamo hai capito? perché è importante dobbiamo tornare a appartenere a qualcosa perché se no non c'è lo Stato siamo uno contro l'altro non andiamo da nessuna parte questo è un sulle alte madonie alte madonie casterbuono geraci alte madonie abbiamo tralasciato un po' le alte madonie adesso li mettiamo magari al mattino li possiamo fare al mattino facciamo l'alta madonie al pomeriggio quella leggermente media e i blei andiamo a Ragusa i monti blei li facciamo li facciamo facciamo la massa comunque è chiaro che questo mini tour in Sicilia sono sette tappe in tutto quindi però andremo a qui a Messina poi a Palermo a Caltanissetta a zona di Milano dove dovreste andare a ottobre hanno fatto 36 tappe si ha fatto a Barcellona a ottobre hanno fatto 36 tappe ho comprato tutta la Sicilia adesso ne fa solo sette un po' bellissimo quando la prima è andata a Catania confermato sulle altre madonie schifo ciao beppe ciao ci vediamo a questo vai in diretta sulla siamo in diretta vuoi salutare qualcuno? saluto a casa e tutti quelli che più conoscono vai in diretta sulla Cosa la Cosa è un canale web che è stato aperto il 14 di gennaio www.veppegrillo.it sbarra la Cosa ho capito ok grazie grazie a te ciao ecco qua siamo arrivati vedete Messina eccoci qua adesso scendiamo scendiamo a piedi stavolta scendiamo guardate che bello abbiamo già la bocca aperta ma siamo ancora in navigazione è che arrivi qua e la gente riparte arrivi qua e parte perché non c'è una politica turistica per Messina che è bellissima dici come vuoi ci voglio grazie ciao 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 non vedi è un'avventura in aggra puoi lasciate un attimo baciamole male si sposta un po' più qua che non vede per abbassare il polto si spostatevi e Beppe spostati perché devono manovrare con il polto venite più in qua per favore non mi sento vedi un manovolio un manovolio ecco qui il ponte si abbassa come? si benissimo attracco avvenuto con successo bene come vedete i pedoni scendono già dai scendiamo? io scendo a piedi andiamo 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 dobbiamo scendere scusa ma prima il volo prima il volo io scendo a piedi e risalgo lì ok? eccoci qua a Messina carissimi amici web spettatori carissime web spettatrici benvenuti a Messina eccoci qua eccoci qua il camper è sceso e a questo punto mi sa che io risalgo perché va a finire che rimango qua aspettami avartero eccomi qua bene vi ho fatto assistere allo sbarco in Normandia a Messina adesso chiudo e ci vediamo più tardi prima delle 12 e alle 12 l'incontro è previsto vero? sì l'incontro è previsto alle 12 magari cominciamo un po' prima con qualche intervista vediamo un po' prima spero di andare che c'è un negozio di audio mi hanno detto proprio vicino la piazza dove vediamo di riuscire a comprare un microfono gelato con un'impedenza corretta in modo da risolvere il problema di ieri che si sentiva un po' basso ok? quindi per il momento vi saluto hanno arrestato chi? Giulio ma Giulio come volete voi se no possiamo sparire con voi bene allora ci vediamo Giulio ma Giulio chi? ma Giulio chi? Giulio hanno arrestato Giulio hanno arrestato Giulio hanno arrestato Giulio ma scusa ma qual è Giulio? Giulio Camminetti hanno arrestato Giulio chiudo ci vediamo più tardi ciao 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 ciao